La birra di oggi è una birra in stile beer de gare, stile che non è ancora stato affrontato qui sul canale quindi mi sembrava l'occasione per parlare un po' anche di questo stile, non propriamente belga ma come zona saun più o meno da quelle parti perché ci troviamo esattamente tra il belgio meridionale e le cosiddette fiandre francesi quindi la zona settentrionale della Francia Direi come al solito di vedere prima le informazioni di questa birra in particolare poi introdurre un po' in generale lo stile delle beer de gare e poi appunto passare alla degustazione di questa bottiglia Come avrete già letto dal titolo il birrificio in questione è Extra Omnes ci troviamo a Marnate, Varese, Lombardia, quindi Italia il nome di questa birra è beer de gare che è anche il nome dello stile riferimento 24C appunto per quanto riguarda il Beer Judge Certification Program le unità di amaro di questa bottiglia non sono indicate sulla scheda del produttore ma il range di stile va dalle 18 alle 28 IBU il grado alcolico di questa bottiglia 8,1 bottiglia da 33cl acquistata a 3,80€ su un beer shop online bicchiere suggerito direi tulipano temperatura di servizio ho letto diverse cose a dire il vero ma non tutte erano da concordi ma starei sui 10-12 gradi come anticipavo appunto la zona geografica è quella tra Belgio Medionale e Francia Settentrionale alcune fonti online indicano come origine di questo stile la zona di Pas de Calais o Calais credo si pronuncia in questo modo ora non conosco la lingua francese nel dettaglio ma comunque siamo nella regione settentrionale appunto della Francia come dicevo prima il termine beer de gar compare in alcune season molto alcoliche più alcoliche delle classiche table season quindi quelle season che si attestano intorno ai 6-6,5 gradi più o meno un po' il range dove piazziamo la season dupont già nominata più volte e indicata come riferimento proprio di stile per le season infatti ma oggi su BGCP perlomeno le beer de gar e le season vengono distinte quindi vengono considerate come due stili diversi il nome beer de gar significa letteralmente birra di conservazione o birra da maturazione o se volessimo utilizzare un termine più tecnico un anglicismo ma utilizzato in ambito birrario è una birra lagherizzata tradizionalmente infatti queste birre vengono fermentate in inverno-primavera per poi essere conservate e bevute durante l'estate o l'autunno o in alcuni casi birre molto alcoliche anche l'inverno successivo conservate quindi in cantina o comunque in luoghi più freddi possibili per appunto un consumo successivo questa cosa qui ovviamente vi farà accendere una lampadina e vi farà appunto connettere questo stile con quello delle season appena nominate perché anche le season tradizionalmente venivano quindi preparate nel periodo di solito primaverile per il consumo estivo o invernale per il consumo estivo esiste anche tutta una scuola di birre francesi per certi versi analoga alle merze tedesche che si chiamano proprio birre de mars preparate a marzo per un consumo infatti successivo e sono anche le birre de mars seppur non uno stile codificato dal BJCP comunque uno stile che deriva da questo grande gruppo di birre contendine rustiche che sono le season sulle season probabilmente pensavo di dedicare una puntata specifica è uno stile molto variegato molto interessante e di cui ci sono pochissime fonti tranne quelle che vengono raccontate oggi dal birrificio Dupont che appunto dopo la seconda guerra mondiale ha cercato un po' di tirare le fila di raccogliere le informazioni tra i diversi contadini le aziende agricole della Vallonia e provare a identificare uno stile contadino che era per ovvie ragioni molto diverso in base a chi, a come e a quando produceva questo stile in base anche banalmente ai cereali che aveva a disposizione in quel momento lì il fatto sta che appunto oggi noi indichiamo la season Dupont come ovviamente un classico riferimento e capostepide per le season moderne ma le birre de mars le birre farmhouse è un fenomeno che colpisce in maniera proprio trasversale tutta la zona mitteleuropea e nord europea fino ad arrivare alle birre scandinave di cui avevo già parlato in passato ma tornando alle nostre birre de gare sui miei punti appunto mi sono segnato che sono birre rustiche una grande variabilità ossia una grande possibilità di spaziare e di giocare con i malti tanto che appunto si distinguono i sottostili di blonde, brune e ombre proprio perché si possono usare malti più chiari malti più cara, più crista quindi più caramellati, più tostati quindi giocare su questo aspetto tra l'altro appunto come nominavo prima la grande variabilità e la possibilità di giocare con i malti che esiste anche nello stile cugino che è appunto quello delle season la principale differenza però tra le birre de gare e le season è che le birre de gare sono più concentrate sui malti quindi l'aspetto maltato è più importante e più importante anche dell'aspetto luppolato che invece nelle season può emergere maggiormente le birre de gare sono più alcoliche specialmente le versioni che storicamente dovevano durare più a lungo e dovevano eventualmente arrivare anche all'anno successivo quindi io le brasso inverno-primavera di quest'anno e voglio che mi dure questa birra che super indenne l'estate per essere avuta il prossimo autunno ma anche il prossimo inverno ebbene questa versione sarà meglio che resista bene a tutte le possibili contaminazioni batteriche soprattutto se non ho un sistema refrigerato per conservarle e mi devo affidare alla temperatura della mia cantina e quindi le birre alcoliche sono tradizionalmente quelle che meglio si conservano e meglio invecchiano altra differenza rispetto alle season meno speziate e tendenzialmente un finale meno amaro e in generale con un maggiore residuo zuccherino le birre de gare rispetto alle season attenzione se leggete testi in inglese all'espressione lagered che ho utilizzato anche io all'inizio da una birra lagerizzata si intende appunto che questa birra ha fatto un periodo di riposo a bassa temperatura ma non significa che è una birra lager quindi non è una birra a bassa fermentazione è una birra ale un'alta fermentazione il lievito utilizzato è un ceppo di Saccharomyces cerevisiae non è un ceppo di Saccharomyces pastorianus o Casbergensis che dir si voglia che è appunto un'altra specie di lievito utilizzata solo per le basse fermentazioni se ci spostiamo sul BJCP che io come al solito considero un ottimo spunto per analizzare lo stile che sto studiando in questo caso il BJCP ci dice che l'appearance quindi come appare appunto questa birra visivamente sono birre blonde, amber o brown appunto in base alle blonde, brune e ambre nominate prima quindi dipende da questo sottostile il colore ma sempre comunque birre limpide con una schiuma bianca o bianco sporco fino al avorio e con una persistenza media l'aroma ha sempre i malti in primo piano malti che ovviamente poi in base al colore possono dare sfumature differenti perché i malti più chiari avranno certi descrittori aromatici i malti più scuri ovviamente altri è possibile è consentita la presenza di esteri fruttati ma comunque sempre tutto molto moderato il luppolo al naso non ci deve essere o se c'è deve essere molto molto leggero e può concedere solo note di luppolatura speziate o erbace ossia praticamente da escludere tutti i luppoli moderni americani, pacifici e così via il flavor anche qui è sempre incentrato sui malti che quindi in base al tipo di malto può andare dal biscotto al carmello al crackers e così via anche qui in bocca poca frutta poca frutta da esteri e un amaro sempre medio basso con un finale che può essere più o meno secco come le cugine sesone il mouthfeel è un corpo medio o medio leggero con una carbonazione media o anche alta e sempre un alcol gentile sempre ben nascosto dalla parte maltata quindi mai un alcol che bruci in bocca prima di passare all'apertura di questa birra vi lascio in descrizione un link del blog di Davide Bertinotti nome famoso in ambito un brewer perché facendo un po' di ricerche online mi sono imbattuto su un articolo del suo blog dove c'è un report di qualche anno fa ma potrebbe essere sempre un ottimo spunto di un suo viaggio appunto nelle fiandre francesi e ci sono un po' di spunti interessanti per scegliere un po' dove andare a bere e cosa bere in quelle zone della Francia settentrionale e direi che appunto possiamo passare all'apertura di questa bottiglia ma non prima, mi stavo quasi dimenticando di commentare l'estetica come al solito delle bottiglie il tappo nero con la sola scritta e il logo di Extra Omnes anche la bottiglia ha un font con questa texture sullo sfondo un po' grunge di questo muro un po' sporco di colore nero il logo grande di Extra Omnes e solo la scritta Beer Degar non è diciamo un'etichetta dedicata a questa beer un'etichetta abbastanza standard sul lato gli ingredienti l'otto dalla data di scadenza eccetera eccetera adesso possiamo finalmente aprire la bottiglia generoso gushing di questa bottiglia che è rimasta in frigorifero quindi probabilmente un po' sovracarbonata e direi che mi fermo qui allora cosa può essere dovuto mentre aspetto che si compatti la schiuma questo gushing, questa esplosione di birra la birra potrebbe comportarsi in questo modo se ovviamente viene agitata e quindi tutta la parte di anide carbonica disciolta all'interno esplode appena apriamo il tap quindi concediamo alla pressione interna della bottiglia di entrare in equilibrio con la pressione ambientale della stanza e più in generale del pianeta Terra oppure potrebbe essere dovuta a una sovracarbonazione quindi se rifermentata in bottiglia e dal fondo direi che è rifermentata in bottiglia se rifermentata in bottiglia appunto dicevo quando la birra viene messa nella bottiglia piatta dopo la fermentazione quindi non frizzante viene aggiunto o zucchero o comunque un composto zuccherino o anche dell'estratto di malto il lievito residuo all'interno del liquido perché ricordiamo che essendo una birra artigianale non è né microfiltrata né pastorizzata ecco che le cellule di lievito hanno ancora un po' di zucchero da mangiare producono come scarto della fermentazione appunto anidride carbonica che non trovando modo di sfiatare quindi resta all'interno del liquido e va a disciogliersi appunto all'interno del liquido e ad aumentare la pressione di questo liquido la quantità di zucchero inserita nelle bottiglie è direttamente proporzionale alla quantità di CO2 che si vuole far produrre al lievito se si esagera con lo zucchero si ottiene questo fenomeno cosa che probabilmente se avete fatto birra in casa almeno qualche volta vi sarà capitato in questo caso non so mi sembra davvero molto strano che Extra Omnis avendo livelli qualitativi altissimi abbia sbagliato la calibrazione della carbonazione che ovviamente non fanno in ogni singola bottiglia con la micro pipetta come faccio io in casa quando faccio 10 litri di birra ma ovviamente discioglie tutta la soluzione zuccherina prima dell'imbottigliamento all'interno quindi della birra prima che questa venga imbottigliata e quindi significherebbe che tutto questo lotto è così non lo so la birra io l'ho acquistata online e conservata in frigorifero a 4 gradi fino a questo momento penso di non averla agitata nei 2 metri e mezzo 3 che ci sono dal frigorifero qui però tutto può essere altra cosa che mi viene in mente ora che potrebbe causare gushing è un'infezione di qualche tipo quindi un'infezione per esempio batterica con lieviti selvaggi che mangiano carboidrati o anche altri composti altre molecole addirittura alcuni lieviti selvaggi mangiano anche le proteine e questo tipo di metabolismo può produrre anidride carbonica e quindi sovracarbonare e quindi il lievito si aveva solo quello zucchero da mangiare ma magari quel pediococco quel bretanomice è riuscito a mangiarsi anche due o tre proteine e ha prodotto altra CO2 che ha sovracarbonato scarterei questa questa ipotesi la cito per cronaca per dovere appunto ma non scarterei l'ipotesi che un birrificio come Stromnes possa avere un problema di questo tipo ma tornando al discorso della birra fatta in casa può capitare effettivamente che se le bottiglie non sono ben pulite imbottigliamo con birre che possano poi avere qualche colonia batterica all'interno beh in quel caso potrebbe capitare ho parlato tanto per cercare di far smontare un po' la schiuma che in effetti ora si è smontata completamente ma effettivamente è persistente con questo velo con questo anello sul sul bicchiere e passiamo quindi all'analisi visiva la schiuma è fine abbastanza persistente comunque questo finale è rimasto sicuramente persistente abbondante si è appena versata ma abbiamo visto il gushing che ha fatto questa bottiglia quindi non è valutabile quell'aspetto la birra è un bel ambrato con riflessi più chiari perfettamente perfettamente limpida si vedono alcune bollicine che partono dal fondo dal bicchiere ma vedo anche le bolle e le gocce sull'altro lato appunto del vetro quindi la limpidezza direi che è perfetta nonostante si sia sollevato un po' di fondo e adesso la birra nella bottiglia è un po' più torbida rispetto a quella che ho nel bicchiere ma passiamo al naso finalmente allora mi aspettavo effettivamente una speziatura minore avendo letto tutte le caratteristiche di questo stile non avendo mai assaggiato questa birra de gardia extra omnes non che la speziatura sia dominante ma comunque importante e ci porta subito questo naso decisamente belga non solo speziatura anzi prima ancora della speziatura c'è una parte legata ai malti come ci aspettavamo malti che vanno dalla frutta secca fino a probabilmente anche la frutta sotto spirito ma forse quella punta di alcol che si inizia a sentire alla fine sono comunque 8 gradi una piccola parte etilica etilica si sente e oltre a questo anche della parte più legata al caramello probabilmente comunque ai malti scuri e appunto questa speziatura importante da lievito belga è sempre ben percepibile al naso fin della prima annusata e passiamo al palato difficilmente distinguibile da una sezone dal mio punto di vista nel senso che la parte finale della bevuta con questo finale decisamente secco ci riporta subito a pensare a una sezone a tutti gli effetti anche se effettivamente la parte dei malti si sente seppur in maniera molto molto controllata delicata e bilanciata nella parte iniziale del sorso dico così perché mi aspettavo una maggiore componente maltata non che non ci sia ma non è tanto maggiore rispetto a le sezone un po' più tradizionali come la sezone dopo nominata prima nonostante appunto sia decisamente più spinta sì su toni maltati ma non così tanto il corpo leggero la frizzantezza la carbonazione comunque importante e questo finale secco secco e leggermente lupolato riportano appunto subito alla mente secondo me le sezone più tradizionali aggiungiamo poi il fatto che 8 gradi nascosti alla perfezione la rendono comunque molto facile da bere oltre appunto questo finale secco è leggermente americante questa frizzantezza che appunto rendono estremamente scorrevole e veloce poi la corsa in bocca e quindi con la Bir de Gar di Extra Homeless Skull e la corsa